Salve ragazzuoli bentornati sul canale, siamo in un nuovo episodio della nostra serie di sopravvivenza insieme al nostro amico Peppino che ci siamo trascinati, non lo so, siamo stati un fottio per portarmi sto deficiente in questa base adesso che stiamo qua, finalmente siamo vivi miracolosamente, io devo innanzitutto trovare un posto dove mettere Peppino allora io stavo pensando, stavo valutando e vorrei valutare con voi perché valutando insieme secondo me si valuta meglio allora intanto ringrazio le persone che stanno condividendo i video perché mi arrivano le notifiche, questo ho condiviso, i commenti grazie, bravi, continuate così, mi fa piacere, vuol dire che vi piace quello che sto facendo allora dicevo, le scelte sono due, almeno quelle che mi sono venute in mente, a me poi suggerite e suggerite velocemente perché io i video non è che li registro prima, quindi quando voi suggerite io già ho fatto uno barra due video, quindi capite no? Perché mi devo portare avanti, non ce la faccio a registrare un giorno prima, un giorno dopo che è scelto, insomma devo registrare prima, non so se mi avete capito, mi sono capito io comunque, a parte questo, allora io ho pensato due idee, ho questa, l'interno di questa montagna, quindi questa caverna questa grotta infinita gigantesca, la lascio naturale con le pietre così e faccio qualcosa del genere come pavimentazione oppure la naturalizzo, cioè tradotto la faccio diventare di terra, quindi erba verde, una volta forse c'è il muschio qualcosa del genere, insomma la faccio diventa verde, però non con troppi A, cioè non deve diventare una foresta che per camminarci diventa un casino, diventa semplicemente verde, tutto molto naturale e quindi posso iniziare ad inserire degli altri elementi in quel contesto, perché se la faccio naturale per dirvi i villager che voglio, mi verrebbe da dire coltivare, ma i villager non si coltivano poverini perché sono delle persone che noi rapiamo selvaggiamente dei loro villager, i villager che voglio coltivare lo dico lo stesso, i villager che voglio coltivare, li infilo delle piccole casette, per esempio là sotto faccio delle casette col villager che mi dà mending, a fianco ci faccio il villager che mi dà ismeraldi eccetera eccetera, invece mantenendo uno stile diciamo molto cavernoso, li dovrei infilare nel muro quindi come ho fatto con la super fornace lì, e non lo so, sono indeciso, perché sono indeciso non riesco ad immaginarmi come, cioè potrebbe venire bene in entrambi i modi sinceramente secondo me verrebbe bene in entrambi i modi, se avete idee suggerite, intanto non farò nulla di tutto ciò così, a parte spezzarmi le gambe, non inizio lavori che poi devo smontare tutto come per esempio questo pavimento che sicuramente andrà smontato perché all'inizio mi piaceva però guardandolo adesso, insomma non è che sia proprio il massimo è bello per carità perché poi gli stone brick a me mi piacciono però non lo so, è freddo capite, non c'è quel calore di casa perché tutti voi sapete che quando uno si butta in un burrone che vuole andare a casa dice che bello il calore di casa, qua non c'è il calore di casa, c'è il freddo del mattone e non mi piace momentaneamente, però lo lasciamo così per il momento chi se ne frega allora dicevo, intanto il nostro amico Peppino gli dobbiamo sicuramente far prendere il lavoro e se non mi ricordo male, lui dovrebbe prendere il lavoro con il lectern, il, come si dice la nostra cosa il leggio, quindi in teoria se io lo avvicino a questo coso dovrebbe, mi sposto sempre con la barchetta perché non mai ci ho preso gusto, dovrebbe magicamente prendere una sorta di lavoro, vero? non gliene può frega di meno mai nell'universo, forse lo dovrei far scendere dalla barchetta però non lo posso far scendere qua, lo devo chiudere da qualche parte momentaneamente il nostro amico, io lo chiuderei qua ci faccio una piccola, come dire, non l'oculo una piccola casa, mi sta venendo l'oculo, ma l'oculo non è, lo so, lo so, hai ragione ti sto trattando una merda, però un po' te lo merdi perché non mi hai seguito brutto bastardo comunque, dicevo, gli facciamo una casetta, barra l'oculo quindi vediamo se abbiamo una porticina già bella, devo pure sprecare il legno per fargli una porta sto schifoso, vabbè dai, facciamogli la porta facciamo una porta, no, che cazzo la sto dicendo, la porta, quello la porta l'apre niente porta, ma non lo scherziamo proprio, non posso fargli una porta gli devo fare un buco e poi devo pure sfasciare, vabbè lo faccio qua il buco non c'ho voglia di portarlo fino lassù, dicevo, gli facciamo un buco dove lui sta bello comodo gli metto pure una, madonna se mi stavo sfasciando la fornace mi incazzavo con una bestia così sta pure bello contento, là ci mettiamo il leggio, ne farò un altro di leggio perché ce lo possiamo permettere, che cazzo la facciamo un altro leggio, no? allora, come si fa il leggio? così si fa il leggio, una libreria e quattro slab i libri io ce l'ho, voi se sentite i rumori non vi inquietate, è la mia tastiera, sapete che faccio sempre casino devo mettere a posto un attimino di roba nell'inventario ragazzi, sto troppo incasinato perché sono tornato, sono fresco di ritorno dall'impresa titanica di portarmi a Cicciobello a casa e quindi non ho ancora messo a posto niente, ora metterò a posto tutto e vediamo quello che succede allora ho messo un po' a posto, facciamoci questi tre libri, uno già ce l'avevo quindi ce ne faremo due in questo modo qua, et voilà signori ci prendiamo il legno che ho appena posato perché sono una persona furba e quindi quello che mi serve lo poso facciamoci tre slab, va bene sei e andiamoci a fare sto lectern, io spero di ricordarmi bene, ah mi devo prima fare la libreria, giusto facciamoci prima una book shield, come si chiama sta cosa? book shield, ok e facciamoci il nostro lectern, dove sta? perché cazzo la me lo perdo? eccolo qua ho là, questo lo andiamo a mettere di prepotenza qua dentro così lui è contento che ce l'ha qua, non mi ricordo se bisogna mettergli il letto ma mi sa di no, non mi ricordo che ha bisogno di dormire per fare quello che deve, non lo faremo dormire mai al nostro amico, qua mettiamo degli slab ho degli slab di stone, vabbè mettiamo questi per il momento, non ce ne frega niente allora dicevo, perché devo anche, è vero che qua è abbastanza protetta la zona perché è tutto illuminato quindi in teoria non dovrebbero sponare mob da nessuna parte, però sai come si dice no? mai dire mai, questo va a finire che gli spona un mob e mi muore malissimo allora saliamo un attimino qua su, conduciamo il nostro amico, e non posso condurre il nostro amico perché c'è sto coso in mezzo alle balle, allora rompiamo due blocchi qua dicevo, conduciamo il nostro amico nel suo, non posso andare avanti perché sono rimasto bloccato porca la, va bene, facciamo così, oh dobbiamo costringere il nostro amico ad andare lì per forza ora lui non si vuole spostare quindi devo costringerlo in questo modo quindi chiudiamo un attimino tutto, perché questo come ti giri no? io lo conosco, cioè l'avete visto pure voi, questo è un bastardo come ti giri se ne va per i fatti suoi, in teoria da qua non dovrebbe riuscire a fare nulla ora io se gli rompo la barchetta, se ci arrivo, porcazzo sto capoccione di mezzo e guardalo, non riesco a rompergli la barchetta, ora gli spezzo una gamba e facciamo prima gliela rompiamo da qua, ok la barchetta gliela ho rotta, lui è andato diritto ma proprio velocissimo là ora se tu, bravo, fai avanti e indietro, rifai avanti e indietro, bravissimo, devi andare più indietro per favore perché non vai più indietro, quale problema mentale hai? tanto, tanti problemi ha questo ragazzo puoi spostare, è inutile, fai avanti, devi spostare, niente ok, l'ho fottutamente bloccato, ma non si sta prendendo il lavoro questo potrebbe essere potenzialmente un grande problema perché non si sta prendendo il lavoro visto che gli ho dato un bellissimo lecter non era questo il blocco? ok, forse non era questo il blocco, forse ha bisogno di riprendere non mi ricordo, quale cavolo era il blocco per farlo lavorare a questo deficiente? signora, abbiamo un problema, abbiamo un problema mnemonico devo andare a vedere su internet, perché non mi ricordo allora, probabilmente devo sfasciare il leggio e rimetterglielo in continuazione proviamo a raggiungere dove sta il leggio ok, allora, facciamogli un altro po' di spazio perché forse, poverino, ha ragione pure dice, ma hai meglio su null'oculo vuoi pure che io lavori? ma muori, ha ragione tutto sommato, non gli puoi dare torto ok, facendo così, in teoria, il ragazzo non dovrebbe rompere le balle ora, se io rompo questo, lo riesco a prendere? ti piacerebbe? eh, non ci riesco devo raggiungerlo da un'altra parte ci riesco? l'ho preso tempo ci abbiamo messo, ma l'abbiamo preso ora, amico mio, se tu ti lavi da lì, io ti metto il leggio qua vediamo se prendi il lavoro eh? guarda che bel leggio lo prendi? oh, in teoria il leggio è raggiungibile no, deve essere accessibile lo sto facendo uscire l'ho fatto uscire porca maledetto schifoso ok, l'ho richiuso non mi sta prendendo il lavoro perché non mi sta prendendo il lavoro, secondo voi? che problema ha? allora, rompiamo di nuovo il leggio rimettiamo il leggio ciccio io non so tu che problemi che brutti problemi hai ma non capisco perché non mi sta prendendo il lavoro abbiamo un problema, signori boh, se mi so beccato il villager problematico che non prende il lavoro è un casino io non ho voglia di andarmela a prendere un altro, capite? però in teoria lui lo dovrebbe prendere il lavoro c'è una cosa proprio meccanica è proprio di minecraft ora, io non vorrei seccarti male ecco, dicevo porca zuzza lo stavo uccidendo ok, stiamo calmi allora, amico non voglio farti male, te lo giuro lo so che poteva sembrare che ti stavo per ammazzare ma è stata una cosa proprio involontaria, veramente non mi usci... non mi scappa guardalo come scappa guardalo il bastardo come scappa dove cazzo lo stavo? mi serve una barca ce l'ho la barca dov'è la barca? aspetta, aspetta ragazzo, tu la ci muori io te lo volevo dire vai nella barca, su per favore, per favore non, non io ma porca ora, io ho peccato proprio il villager brutto, eh ve lo dico dove sta andando? guardalo dove cazzo la si sta arrampicando questo mi muore malissimo amico mio qua ci stanno gli zombie è tutto buio bastardo, ma perché? perché devi andare lassù? fammi capire una volta che sei arrivato lassù che cosa hai risolto? cioè io non capisco qual è il tuo problema amico mio? non riesco manca a piazzare sta barca maledetta adesso guarda, si vuole suicidare suicidare piuttosto che andare su una barca allora, lì c'è una barca ora, io ti ci spingo dentro dentro vuol dire di non è andato nella barca ok potenzialmente abbiamo un problema con questo ragazzo io ve lo dico cioè io volevo fare sto video a far vedere questo che mi scambiava la roba e invece sto a fare sto video a rincorrere sto deficiente potresti infilarti gentilmente su questa barca perché non rompere le balle a tutti noi che ti vogliamo vedere sei entrato? ci sei? ci è entrato secondo voi? sì, è entrato nella barca ok, possiamo scendere lo riportiamo un attimino dove stava devo risfasciare un'altra volta tutto amico io non so che problemi hai posso capire che non ti piace sta qua però ti posso assicurare che poi sarà meglio guarda, te lo faccio più grande il posto va bene? così c'è più spazio sei contento e non mi rompi le balle vabbè dove sta il leggeo? ti metto il leggeo qua guarda quanto è figo io se vuoi ti metto anche un letto ma non ho mica problema vuoi vedere che non prendi il lavoro perché non c'è è possibile? è possibile forse lui vuole dormire e quindi non prendi il lavoro e potrebbe essere tutto è possibile con questi villager magari hanno cambiato le cose o io mi ricordo un cacchio per un altro guarda, questo è il tuo letto non ci ha mai dormito nessuno è proprio un nuovo di pacca te lo metto qua guarda quanto è figo qua chiudo così qua chiudo così ora io vado qua dentro parcheggio la barca nella tua nuova casa fantastica con tanto di letto e di torcia che cazzo vuoi di più dalla vita? maledetto io vorrei uscire però se fosse possibile è possibile è l'esaurimento ecco ti chiudo un attimino così in teoria a questo punto rompendo la barca io suppongo che tu possa andare a dormire non va a dormire non prendi il lavoro non fa niente vuoi qualcosa da mangiare? che cosa gli devo dare per farlo lavorare a questo? vuoi un'altra torcia? niente non gliene frega niente di lavorare questo non c'ha voglia di fa un cazzo praticamente amico? eh però porca zozza cioè non è per cattiveria però stai proprio un bastardo lo volevo dire l'ho presa la barca sì richiudiamo cioè mi sto a sfasciare la base per far lavorare a sto deficiente non lo so vado a dormire io magari viene voglia di dormire che cavolo vi devo dire? forse c'è il leggio troppo vicino andiamo a vedere se è cambiato qualcosa? potrebbe lo vedo sempre senza lavoro a lui eh raga io mi devo informare non vorrei aver preso il villager buggato io mi ricordo che bastava metto il leggio non ci vuole il libro sul leggio perché non lavori? maledetto vabbè controllo proviamo a mettergli un altro blocco voglio voglio proprio vedere in teoria tu prendi il lavoro pure con questo no? io ti piazzo sto bellissimo affumicatore qua ti piace? allora io e questo villager non stiamo andando molto d'accordo mi rendo conto che il nostro rapporto si sta deteriorando con il tempo perché gli ho chiamato un'accettata e due schiaffoni fino a mo e non ha apprezzato ha ragione pure però raga io devo vedere su internet allora ho appena letto spero su un sito fake a sto punto che i villager con la tunica verde non prendano mai il lavoro il nostro villager in questo momento ha una tunica che se la guardiamo dal basso è marrone però in alto è verde volete veramente dirmi che io ho passato un'ora a portarmi un villager disoccupato che vuole rimanere disoccupato nella mia base così a gratis cioè potrei sclerare malissimo controllo ancora non ci credo a questa cosa allora ho anche letto che i villager di notte non prendono lavoro ma adesso è giorno quindi non c'è motivo per cui questo non dovrebbe prendere il lavoro a parte che sta saltellando come un deficiente perché pensa che adesso lo pesto di mazzate avrei voglia anche di pestarti di mazzate ma non lo farò amico mio voglio solo che tu prendi un piccolo lavoro vuoi lavorare per favore io ti do una bistecca se lavora no non gliene frega un cazzo vuoi una fornace vuoi una picconata in bocca cosa cazzaro la vuoi da me maledetto non lavora non sta lavorando è una merda ho preso veramente un villager ricottato non ci credo non lavora no vabbè ci sono rimasto malissimo devo fare altre indagini non mi fido di quel sito finché non lo leggo proprio sulla wiki ufficiale aspetta qua tu se non lavori fai una brutta fine guarda come te lo dico allora signori qua c'è solamente una cosa da fare prima di ammazzare il villager perché è un pensiero che mi sta non lo so sto liticando tantissimo quello di seccarlo io amico ti sto schifando ma in un modo che tu manco immagini io devo andare al villaggio e vedere per se gli altri villager verdi non prendono lavoro devo verificare questa cosa per forza perché se così fosse eh signori abbiamo un problema tantissimo cioè proprio gravissimo è un problema enorme cioè io devo devo portarmi in altro village ma io non c'ho voglia tutto maledetto vabbè andiamo allora adesso adottiamo una nuova tecnica visto che quel villaggio che io ho trovato non è proprio collegato al mare quindi abbiamo fatto l'impossibile per portarmi a questo rimbambito appresso a sto punto io cercherei un villaggio raggiungibile via mare se lo vedo bene se non lo vedo non ve lo dico però intanto mi sparo pure render distance a palla così lo so che lagheremo come dei moicani assassini ma non ci posso fare niente portate pazienza quando trovo qualcosa ve lo dico signori ma quella laggiù è una casetta? no perché la mia base è lì quella lì è una casetta? sembrerebbe una casetta lo so che sto laggando e io odio vedere i video che laggano voi avete ragione tantissima ragione sta pure calando la notte porca miseria ladra raga quello è un villaggio maledetto sta lì su perché io mi sono sperso tantissimo ce l'ho qua vicino il villaggio e ma questo cambia tutto se non mi esplode il computer ovviamente questo cambia proprio tutto cioè io c'è un villaggio qua vicino e questo è mare chiaramente mare è vero che è mare non è vero però non ce ne frega niente c'è un villaggio lassù l'ho visto oh l'ho visto eh che cos'è aspettate? allora forse non mi serve manco questo render distance sparato infatti allora là c'è un villaggio è chiara questa cosa io adesso lascerò la mia barchetta qui la notte la notte non sta calando la notte c'ho le visioni quindi salendo dritti per dritti qua su c'è un villaggio e se non è un villaggio non so che cazza cazzarola hanno messo nel mio mondo però sta andando dritto eh attenzione molto dritto drittissimo più o meno ci sto provando ok ora dovrei vedere cioè ma porca miseria io il villaggio ce l'ho azzeccato a casa ma perché mi sono spero vabbè non importa non importa abbiamo un villaggio molto più vicino di quello che pensavamo quindi io posso depredare selvaggiamente questo villaggio come cacchierola voglio io guarda quanti villager ci sono guarda boh ne prendo uno che già ha un lavoro così sono sicuro che lavora ci sono villageri che vogliono lavorare signori offro lavori porca cioè disoccupazione dovete lavorare guarda questi non stanno a fa un cazzo per esempio e quindi li ignoro voglio uno che già ha un lavoro è possibile prenderne uno con un lavoro questo è un villaggio di disoccupati cioè non c'è sta nessuno che lavora ma veramente guarda mo gli prova a piazzare sta cosa vici in mezzo ai villaggi ai villageri come cazzo allora si chiamano toh qualcuno prende un lavoro non è questo il blocco che devo mettere va bene mo lo so io il blocco che devo prendere preoccupate tu lavori tu sei troppo piccolo per lavorare maledetto nano qua non c'è niente forse forse qua c'è un blocco lavoro utile non c'è un cazzo manco qua dove cazzo la sto andando in un buco perché sto andando in un buco allora signori stiamo tutti un attimino calmi respiriamo tutti insieme perché qua la situazione si sta facendo drammatica io cerco semplicemente un villaggero un villager chiamatelo come vi pare che ci abbia voglia di lavorare non è che chiedo chissà che cosa un deficiente che ha un lavoro lo posso trovare qua sotto ci sarà un blocco lavoro secondo voi beh come casa sembra bella impegnativa vuoi che non ci sia questo forse con questo lavorano io non lo so non me le ricordo queste cose allora intanto sta calando la notte io qua pure ci muoio come un deficiente però non ho rotto il letto dalla base quindi chi se ne frega anche se drammaticamente dovesse succedere una cosa del genere allora mo voglio dire dov'è il mio letto non m'ho sopportato fantastico vabbè intanto ce ne stanno un sacco sento degli zombie mi si è bulletto assolutamente e ho trovato pure quello che lavora vedi scusami amico ma mo tu da oggi in poi non lavorerai più qua dove sta il mare di là di qua non mi ricordo aspettate un attimo qua me sto a perde porca zozza mo me muoiono pure sti cosi la sta il mare allora qua c'è uno zombie che va a fuoco e non ce ne frega niente potresti morirci ma lì allora amico mio guarda tu bravo continua a scappare dove ho messo la barca l'ho lasciata a mare porca zozza aspetta Nat fermi tutti con calma non perdiamo la calma basta fare una crafting table molto semplicemente sento rumori stani questo villager mi sta simpatico perché vedi che mi segue lui già ha capito tutto lo sa che io lo voglio portare in un posto migliore io mo ti metterò amico mio non te ne andai che mi incazzo come una bestia ti inizio a prendere a martellare vai su quella barca guarda 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 quella barca quanto è bella porca la maledetto io non mi ricordavo che se era se faceva tutto sto casino per prendersi villager comunque e t'ho fregato piccolo bastardo allora mo ti devo rompere il blocco lavoro a te oppure non lo so nel dubbio fammi andare a sfasciare quel coso il composter era mi ricordo allora guardiamo il nostro villagero con il lavoro io ti rompo questo tu perdi il lavoro c'è ancora il suo lavoro c'è un altro composter da qualche parte in teoria anche se lo allontano dal suo blocco lavoro dopo un po' lo dovrebbe perdere però nel dubbio amico mio io senti io ti porto a casa male che vada ti ammazzo che ti devo dire o ti uso per farti riprodurre con quell'altro deficiente che non vuole fare un cazzo va bene tutto non è un problema per me figurati basta che metate mending poi per il resto fate il cacchio che vi pare allora secondo me questa strada potrebbe portarci molto facilmente a mare più o meno ok stiamo andando bene lo so è un altro episodio dove stiamo trasportando villager ma non è colpa mia se ho beccato il villager tarocco voglio dire a me nessuno me l'aveva detto che i villager marroni non c'avano voglia di fare un cacchio che ne sapevo io qua c'è sta un'altra barca vero ok torniamo alla nostra base che in teoria dovrebbe essere di qua non vorrei sbagliarmi allora ha perso il lavoro è vestito di marrone quindi non c'ha quella tunica verde da morto di fame in teoria io sono fiducioso sono molto fiducioso mo l'unica cosa che devo fare non mi devo perdere ma è possibile che già mi stia perdendo forse era di qua potrebbe essere e non mi ricordo più do sto ok là ci sono gli alberelli che colore è rosa rosa mo devo rifare un'altra volta la storia devo portarmi il tizio ok si era qua era qua era qua da qualche parte è qua si gira qui in teoria è qua che dovrei approdare non si vede la spada che indica ma stavo indicando esattamente lì io approderei qui non mi ricordo dove è sta casa ma come faccio io a vivere in minecraft in questo modo non mi ricordo un cazzo ma non è normale aspettate un attimo fatemi vedere da qua se vede qualcosa infatti non si vede un cazzo mi sono perso di nuovo forse era di qua aspettate un attimo allora mi sono dovuto rimettere le coordinate raga perché mi sono perso lo so che stavo allo sputo da casa ma sti alberelli rosa mi confondono sono tutti uguali non so dove cazzarola a prodare con sta barchetta maledetta allora c'è pure cos'è quello un villager errante sì è il villager quello che vende la roba insomma allora signori sembra impossibile ma ho ritrovato il posto perché ho riconosciuto questa cascatina qua ho fatto 30.000 giri ma dovrebbe essere questo qua in teoria vero? è questo qua porca zozza allora una cosa da fare sicuramente da questo laghetto io devo aprire un cazzo di buco che mi porta qua assolutamente ho sentito una specie di zombie non lo so e poi qua devo fare qualcosa che mi fa capire che sto arrivando vicino casa mo questo qua io allora amico io intanto ti tolgo questa roba qua ora tu dovresti iniziare a correre felice qua su cerca di seguirmi per favore bravo come ha fatto tuo fratello vedi quello è stato deficiente per tutto il viaggio poi è salito e tu invece no allora il tuo villaggio non c'è devi andare di là quindi se mi segui magari bravo sali cioè lì c'è solamente acqua quindi solo qua puoi salire una volta che sali qua ti porto a casa siamo tutti contenti dai bravo bravo un po' di autonomia mi piace complimenti bravissimo non mi stai deludendo no sei un coglione non ci stanno altre cose devi andare di là per favore non posso fare un video mentre ti seguo se ne stai andando a mare lui cosa cazzaro la cerchia non c'è niente a mare vedi qua c'è la morte devi andare di là maledetto no non lo capisci è stupido non ci posso fare cioè sti villager proprio eh che posso fare per te come ti posso aiutare ti do una mazzata sulla testa così smetti di soffrire che devo fare dai cioè è una strada qui devi andare razza di deficiente qua vedi veramente dove sto si arrampicati non fa niente vai bravissimo bravissimo fai un altro saltino bravissimo continua a saltellare come un deficiente va bene non devo andarci nella barca mi sto rincoglionendo ve lo giuro bravo 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 bravissimo così si fa oh e tanto ci voleva ma vai a cagare a mare maledetto raga io lo so stiamo rifacendo quello che abbiamo fatto nel video precedente ma non è colpa mia capite non è colpa mia cioè io sono tornato a casa da lavoro ho detto mo mi rilasso mi faccio una bella partitina a minecraft piazzo il mio villager da qualche parte gli do il lavoro mi faccio dare mending inizio a mettere mending da tutte le parti non lo so pure sugli alberelli e mi rilasso e invece no non è successo così però adesso io sono molto fiducioso che appena io lo lascio appena arriviamo vicino lo lascio lui giustamente in questo contesto voi vi rendete conto no guardate qua c'è mare può andare solo di là non è che può fare altro capito quindi io sicuramente sono sicuro che lui adesso salirà bravo eh qua non puoi non salire capisci è l'unico posto dove puoi andare devi salire e mi devi arrivare qua ci sta pensando un attimo si è bella la montagna hai ragione ok sei convinto dai bravo vai fai un passino sulla barca bravissimo signori ora abbiamo pure visto che non prendiamo danno sulla barca quindi ci possiamo buttare ci muoviamo malissimo non è vero oh là che cosa vuoi di più abbiamo portato potenzialmente un villager decente nella nostra base ok ora io lo porterò qui vicino a quello che non ha voglia di fare un cacchio che adesso lo libero proprio non me ne frega niente fai quello che vuoi della tua vita ma non te ne scappi più vabbè che vedevo di intanto portiamo lui oh che è quello originale proprio eh ora tu prenderai aspetta che stai sempre in mezzo un po' le palle ora tu prenderai il lavoro perché io lo so che tu prenderai il lavoro tu non vedi l'ora di lavorare vero diciamoci diciamoci le cose come stanno da qui non puoi uscire giusto perfetto ora io farò un piccolo buco qua sotto così ti tolgo la barca da sotto i piedi e tu sei contento uno due tre quattro vedi non ti ho manco dato una mazzata finora e ha preso già il lavoro signori attenzione vuole uscire da un buco dove non ci pare però ha preso il lavoro oh così si faceva non era difficile voglio dire la barchetta l'ho ripresa si chiudiamo qua chiudiamo tutto e porca miseria l'altra ok signori allora facciamo quello che dobbiamo fare 20 minuti fa adesso lui ha preso il lavoro ed è molto contento guardatelo come sprizza già da tutti i pori ora io devo avvicinarmi in modo da rompergli quella cosa finché non mesce mending normalmente si fa così ecco qua perfetto facciamo così anzi facciamo così direttamente rompiamo questo così posso sfasciare questo blocco tranquillissimamente e ripiazzarlo tutte le volte che voglio finché lui vediamo se se c'è mending non ha preso mending non è un problema noi lo risfasciamo e perché non fai ti prende quel cacchio di blocco ma porca zozza eh questo è un problema perché mi devo prendere quel blocco allora facciamo così io mi trasferisco dentro la stanza con lui finché non prende quel cacchio di mending e poi una volta che l'ha preso esco è l'unica cosa che possiamo fare perfetto qua chiudiamo così non se ne scappa vediamo tutto allora amico mio ragioniamo con calma non ti emozionare questo è il tuo cacchio di banco da lavoro sei emozionato perché ti sto guardando non ti piace messo l'alo o quelli te lo metto lì vai amico che cazzo di problema hai io non ce la faccio ti sfascio anche il letto guarda ti fustico di mazzate prenditi questo cazzo di lavoro per favore te lo do il letto te lo do è perché lo sto guardando perché mo non prende più il lavoro no vabbè non ci sto credendo aspettate forse è notte ma se è notte dovrebbe dormire l'ha preso ho visto sbilluccicare eh infatti eccolo qua allora è sempre questo c'hai ma amico non è per cattiveria io ho visto ho visto per so buonanotte ok è andato vabbè vado a dormire pure io a questo punto visto che lui sta dormendo ne approfitto per fare dei lavori in casa lascio mezzo blocco di spazio a sto deficiente in modo che poi posso pure distrugge sto cacchio di coso ecco fatto così perfetto qua mettiamo una cosa del genere ci arrivo a prendermelo non ci arrivo lo stesso a prendermelo ma non fa niente in teoria dovrei che cacchio non ci arrivo chiudiamo qua così in teoria lui non può uscire giusto? qua facciamo così eh lo so gli sto a fare una cripta non è però non fa niente va bene così andiamo a dormire un attimo io sto facendo tutto un giro assurdo ma potenzialmente lo posso lasciare nella barca e se lo posso lasciare nella barca tutto quello che sto facendo non è servito a un cazzo ma non importa ti piazzo qua puoi prendere il lavoro anche se stai nella barca quindi ti lascio qui nella barchetta leviamo sto letto che ora non ti servirà mai più nella vita questo lo mettiamo qua la barchetta la parcheggiamo qua ti metto pure girato così guarda quanto sei bello stavo morendo e Dio se lo sa perché sto parcheggiando signori eh con calma bisogna parcheggiare bene ok ho parcheggiato? ho parcheggiato perfettamente ora questo è il tuo leggio prendi il lavoro su ti tolgo pure un po' di roba da sopra che magari la testa nelle pietre ti dà fastidio non gli piace stare nella barca va bene ce ne frega niente allora sto qua con te ti faccio compagnia guarda prenditi sto lavoro per pietà te lo sto chiedendo dai è tutto tuo l'ha preso è sempre questo mi dà però perché non mi non mi dà nient'altro cioè solo questo non è possibile io mi ricordo troppo bene che facevo oh punch 1 te lo puoi tenere perché mi fa schifo te lo metto qua dai vai vedi che adesso sta ingranando benovantro sei gasato raga ha capito che funziona così la vita guarda come va veloce un'altra volta questo non ce ne frega magari me lo metto qua così faccio prima sfasciare poi ci sale proprio sopra sei affezionato ormai guarda guardalo com'è contento benovantro potrò un'altra volta però quello non mi serve a me vai punch 1 è un po' ripetitivo il ragazzo non è un problema si sta ancora ambientando punch 2 vedi sta facendo progressi un mending io voglio solo un mending capito benovantro poti tua sorella e va bene vai col mending vai col mending signori un punch 1 di nuovo mi si è fissato questo punch 1 amico mending guarda il labiale mending benovantro pot 4 evidentemente ha avuto dei traumi infantili con i ragni sto coso che mi vuole sempre da benovantro vai niente non lo so ha paura dei ragni e quindi mi dà la roba per ammazzare i ragni punch 2 inizio a pensare che sia un po' coglione di nuovo la libreria io ti ringrazio che poi in teoria la prassi sarebbe quella che quando ti inizia a dare mending tu devi sfasciare comunque il leggio e ripiazzarlo finchè non ti dà mending con qualcosa di conveniente perchè all'inizio in teoria lui ti dà la mending in cambio di un botto di smeraldi libri altre menate varie questo però mending per ora non me l'ha ancora dato io non so se farvi assistere a tutto il procedimento e rompervi le palle o se tagliare tutto questo pezzo prima che io gli inizi a porconare male perchè potrei effettivamente potrei iniziare a porconargli male tipo gli potrei dire di quanti bei lavori faceva sua mamma e lui non lo sa ma se vuoi io te lo spiego quanti lavori faceva tua mamma non ti dico tua sorella cosa combinava cioè proprio e vogliamo parlare di tuo padre ma ha pure sfasciato la torcia tra un po' poi inizierò a pigliarlo ammazzate io già lo so che finirà male questa faccenda allora amico mending niente è deficiente questo è proprio un coglione allora lui è timido quindi facciamo così per i momenti il lavoro non glielo do anzi ci metto questo e glielo lascio qua andiamo a prendere un altro villager ora io me ne andrò amico mio tu non mi seguirai mai nell'universo perchè non puoi capisci che non puoi non devi andare qua devi andartene laggiù e statene lì per i fatti tuoi che io qua adesso esco con calma ti blindo così nessuno ti seccherà male anche se voglio dire un pochino ti potrebbero seccare male non è che farebbero sto grande danno però lo chiudiamo qua dentro momentaneamente ok ora me ne vado a prendere un altro magari una torcia dentro ce la metto giusto per non fargli spawnano zombie perchè gli spawneranno zombie in faccia sicuramente a questo che è sfigato ecco qua lo chiudiamo abbiamo il nostro villager e quell'altro dove andato a morire male ma soprattutto ce ne frega di sapere dove andato a morire male quell'altro sta lassù non ce ne può frega di meno muori da solo bastardo aggiungerei vado a prendere un altro villager e torno allora ragazzi prima di andare a prendere l'altro villager voglio fare questa impresa titanica devo aprire un buco un canale fondamentalmente che mi conduce fuori perchè io sto in un laghetto e mi sarei rotto le palle lo so che non era quello che volevo fare all'inizio me ne rendo perfettamente conto sta per morire male però secondo me ne vale la pena ora abbiamo 14 livelli non sono tantissimi però non sono nemmeno pochissimi io ho un diamante ce l'ho sicuramente perchè ce no in altra pala ci togli l'incantamento e ci riprovi ci ha senso tutto ciò quindi io questo lo lascerei proprio qua dove sta me lo metto qua così allora vediamo un po' unbreaking 3 unbreaking va bene mi sono portati i lapislazzuli non mi sono portati perchè lo sapete già perchè non devo dirlo capite prendiamoci i lapislazzuli e fortunatamente ce ne abbiamo a bizzeffe questo lo possiamo posare che non ci interessa più questo non mi interessa più andiamo ad incantare questa pala io vorrei un efficiency 5 ma contento di poco e un unbreaking non è che chiedo chissà che cosa allora mettiamo questa pala mettiamo pure i nostri smeraldi qua allora abbiamo unbreaking 1 unbreaking 3 unbreaking 3 iniziamo a mettere unbreaking 1 unbreaking 1 potrebbe anche andare bene per carità però in teoria questo mi dà pure un po' di esperienza se non mi sbaglio vero oh per carità da 14 ne tenevo e 14 no possiamo ripetere vediamo che ci dà efficiency 2 già mi andrebbe benissimo con un unbreaking ma non mi ha dato l'unbreaking questo bastardo ci riproviamo non è un problema tanto voglio dire oggi questo tengo da qua e siamo scesi purtroppo aspettate che se sto qua mi sa che mi blocco da solo la la come si chiama efficiency 1 fortuna 3 sulla pala è inutile come la merda ci rimettiamo questo efficiency 1 ce lo ritogliamo di nuovo e andiamo avanti così finché non devo andare a fare l'esperienza non voglio l'accetta ma voglio la come si chiama la pala allora abbiamo unbreaking 1 e unbreaking 2 proverò con un unbreaking 1 e niente siamo poco sfigati questa è poco sfiga mi sa che mi conveniva farmi due pala effettivamente è solo un diamante perché cazzo sto togliendo sta roba questo c'ha un efficiency 2 12 livelli allora vado a fare un po' di livelli andiamo a fare un po' di livelli e poi torniamo con molta calma la nostra farm di scheletri potentissima sta qua sotto quindi io farei una trentina di livelli ci metterò un fottino di tempo purtroppo perché la farm non è che sia proprio super efficiente diciamoci la verità è una farm di scheletri voglio dire non è una farm di enderman però ci hanno danno da caduta quindi comunque una mazzatina gli dai e muoiono male il che non è per niente una brutta cosa qua abbiamo un arco con unbreaking 1 che per il momento non ci interessa se lì c'è l'ingresso per la nostra miniera di diamanti più o meno ok aspetterò qua con molta fiducia allora come mi ha suggerito Gasi in un commento ho alzato in modo che in teoria gli scheletri non dovrebbero più sbattere la capoccia là sopra perché sbattevano sbattevano la capoccia e restavano bloccati i poverini quindi ci ho messo un altro cartello in teoria ora dovrebbero scendere molto più velocemente vediamo se questa teoria diventa vera intanto qua diluvia ma va bene li ammazziamo a torce allora sembra che stiano cascando più velocemente effettivamente quindi li possiamo seccare vabbè ragazzi raggiungo 30 33 livelli e poi ne riparliamo ragazzoli è passata una giornata e dalla mia voce vi rendete conto che mi sono raffreddato maldico la terribile e quindi non lo so ho questa voce mista tra tante cose che non dirò comunque siamo siamo di nuovo qua e io ho fatto un po' di esperienza 39 livelli voglio dire quella farm di scheletri non è velocissima diciamoci la verità fa un po' schifo però quello passa il convento che dobbiamo fare allora eravamo rimasti che io dovevo provare ad incantare una pala c'ho la pala ce l'ho la pala eccola qui vediamo che cosa ne viene fuori allora unbreaking unbreaking 3 possiamo provare ok ho fatto questa mi serviva unbreaking 3 efficiency 4 mi va più che bene cioè sto tutto questo tempo a incantare roba gratis cioè a fare esperienza va bene non è un grosso problema allora abbiamo una pala incantata e quindi con questa voce molto profonda sicuramente no strana sicuramente si voglio andare ad iniziare a fare quel tunnel che mi permetterà di spostarmi con la barchetta da qua fino al villaggio dei villager ovviamente che poi io mi sono incantato la pala magari ci sta un minimo strato di terra tutto il resto è pietra e è stato tutto un lavoro inutile vabbè non è inutile perché comunque vuoi che non ci sta un sacco di terra qua dentro dai cioè sicuramente ce ne sarà un casino allora mettiamoci la barchetta andiamo qua e facciamo una tagliata proprio un bel tunnelino diciamo lo stretto di qualcosa poi pure a questo gli daremo un nome lo stretto di lo stretto di qualcosa beh oddio effettivamente la distanza non è proprio poca eh no non è poca allora vediamo se possiamo trovare un punto dove è più breve la distanza no no è sempre così ok ci tocca fare un casino va bene signori io inizio lo scavaggio vi aggiornerò di tanto in tanto perché dubito che siate interessati a mezz'ora di scavo nel nulla eh però la pala così grandi soddisfazioni vedi così sì poi magari qua becco pure una grotta così mi evito di scavare se non è posto farei una cosa momentaneamente grezza cioè proprio provvisoria e poi andiamo ad affinare però per il momento mi serve semplicemente un buco dove poter passare con la pala sì con la pala ciao con la barca per andarmene da qua non era fondamentale diciamoci la verità cioè è una cosa di più avrei potuto tranquillamente vivere senza sto stretto che sto facendo però voglio dire perché non farlo se si può fare no? trovi alla fine uno si deve fare le cose che gli piacciono a me piaceva prendere la barca e andare dritto verso il mare senza fare sali scendi che poi magari più in là ci tornerà utile per altre cose non so ancora cosa oltre al fatto di portarmi dei villager però ci sta ok la pala si comporta molto bene veramente molto bene siamo arrivati qua perfetto a sto punto io potrei proprio fargli fare una curva perché no lo faccio arrivare qua e stiamo tutti a posto allora di quanto a me va bene pure che sia profondo di uno non mi interessa che sia profondo di chissà quanti blocchi quindi lo facciamo girare di qua e siamo tutti quanti contenti ok a questo punto ho fatto il percorso eccolo qua pure dormito perché giustamente era calata la notte ora terraformo un attimino qua fuori e poi finisco ok ragazzi ora devo semplicemente mettere dell'acqua che in teoria mettendola sul perimetro qua mi si fanno delle pozzette d'acqua infinite in automatico dovrebbe poi piano piano riempire tutto così si narra ok allora stiamo andando meglio del previsto alla fine bastava pure un unico secchio se lo pure è prima vedi è molto semplice basta metterlo lungo il perimetro ora cerchiamo di capire qua perché l'acqua è in movimento eh ormai ci ho preso la mano signori attenzione ok praticamente si fa da solo guarda faccio tutto così bellissimo è proprio velocissimo però dai c'è di peggio la c'è un blocco che ancora è in movimento e lo blocchiamo così ok forse il letto dovrei toglierlo dal mezzo al fiume che dite secondo me sarebbe una buona idea raga incredibilmente abbiamo quasi finito eh cioè quello quello è il mare bellissimo pensavo ci volesse molto ma molto più tempo ok signori ho fatto perfetto vediamo se funziona tutto quindi questa è la nostra barchetta andiamo qua e ci infiliamo qui dentro poi magari lo lo sistemiamo un attimino meglio però intanto per il momento funge al suo sporco scopo quello di portarmi villager dentro la base ok non è male non è male magari allargarlo un altro pochino però ci siamo e da quella parte ci sono i villaggi perfetto ora facciamo qualcosa per rendere visibile questo pezzo perché altrimenti io mi perdo puntualmente ma non è un problema perché ho un bel po' di cobblestone faccio un bel pillarono illuminato e ciao una sorta di faro molto grezzo poi ne faremo uno fatto meglio però per il momento per non perderci secondo me questo va più che bene ok vediamo qua sparando tutto a palla che si vede allora se non mi sbaglio quello dovrebbe essere il villaggio vedete ma purtroppo non c'ho l'optifine non c'ho il canocchiale non posso zoomare ma in teoria quello dovrebbe essere proprio il villaggio qua si sta formando un sacco di roba quella è la mia base vabbè tutti gli alberelli felici il mio laghetto che al momento non è più un laghetto no vabbè è sempre un laghetto questo cosa si questo va aggiustato perché così è proprio dritto e fa schifo ma c'è pure un altro secondo me quell'ingresso porta comunque là sotto in un certo qual modo questa pure è un'isoletta decisamente che anche si potrebbe sfruttare in futuro beh alla fine ci sono un sacco di isolette in questo pezzo di mare io suppongo sia mare spero sia mare vabbè intanto illuminiamo sta cosa ho premuto shift non è che muoio malissimo no ho premuto shift ecco qua io la farei anche un po' più alta voi che ne dite ma io la faccio più alta che ce frega ok ho alzato gli altri 64 blocchi fico non vedo più i villaggi doveva stare da quella parte forse ok quello è l'outpost dei pillager vabbè secondo me va bene dai dovrebbe essere abbastanza visibile da lontano sto coso facciamo così lo illuminiamo siamo tutti quanti contenti e adesso il salto della fede ok bello alto attenzione qua intanto stanno venendo a cercarmi perché sono bastardi dov'è il mio letto qua ce l'ho in mano vabbè posso andare a dormire nella base scusami con permesso eh oddio mi beccherò un po' di frecciate sicuramente però vabbè non fa nulla forse le evito non è vero mai sì le evitate le evitate tutte cioè non mi hanno beccato una volta con i cilati ottimo e anche qua sarebbe carino porca zozza mi sono caccato addosso dicevo anche qua sarebbe carino mettere qualcosa per salire prima lascio uno scheletro che ignoreremo proprio volontariamente il mio cavallo sta meglio di tutti quanti e via signori oh porca zozza ok non sono morto anche perché ho 36 livelli mi dispiacerebbe un tantino morire in questo momento sai com'è ma va bene ragazzuoli io penso che ci possiamo pure fermare qua anche perché la mia voce mi sta lentamente abbandonando e diventa proprio complicato parlare sarei andato volentieri a prendere gli altri villager per chiudere questo episodio però al momento non ce la faccio non mi dite niente sentite che voce agghiacciante comunque io spero che questo episodio vi sia piaciuto a me è piaciuto mi sono divertito anzi sono due in realtà perché sono registrati in due momenti diversi è stato abbastanza divertente quindi in modo dobbiamo semplicemente andarci a prendere gli altri villager fare una sorta di mini villaggio qua dentro iniziare a fare degli scambi per avere smeraldi e per avere mending e poi vediamo il da farsi iniziamo a fare qualcosa che abbiamo scritto sul nostro libro delle idee ragazzuoli io vi saluto vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi ciao